Britney Spears ha confermato la fine del matrimonio con Semash Gary «Me la sto cavando maledettamente bene» ha scritto su social nei giorni scorsi parlando di un dolore che non riusciva più a sopportare e della libertà di sentirsi ora finalmente libera di mostrare le sue emozioni senza più nascondere le proprie fragilità Ed è nel pieno di questa nuova libertà che la popstar ha pubblicato un video che la mostra protagonista insieme a cinque uomini con cui racconta di aver trascorso la notte Nelle immagini si vede Spears che si lascia leccare le gambe da uno dei cinque ragazzi invitati a quello che pare proprio un party organizzato per festeggiare il divorzio Poi sempre i cinque uomini la sorreggono a bordo Piscina I commenti in calcio alle condivisioni sono stati disabilitati Qualche mese fa la stessa cantante aveva espresso rabbia verso chi, come l'attrice Lisa Milano, si era detta preoccupata per il suo stato mentale, qualcuno per favore tenga sotto controllo Brintei Spears era stato il tweet a cui erano arrivati tantissimi like da parte del pubblico e lo sfogo della diretta interessata Mi rattrista vedere queste cose dette su di me da persone che neanche mi conoscono, aveva scritto Britney, io mi sento bullizzata da questo Donne, noi dovremmo tifare le un per le altre e non buttarci giù a vicenda Ora per la cantante, verso cui la stessa famiglia si era detta in apprensione, si apre una nuova fase della sua vita segata dal suo terzo divorzio che si preannuncia come una lunga e complicata battaglia legale Un post condiviso da Maria River Redd kiocciola Britney Spears. Un post condiviso da Maria River Redd kiocciola Britney Spears Grazie per la visione!